buongiorno siamo qua nella serra di giulio farinelli con i suoi bulbophyllum piante spettacolari, bulbophyllum giganteschi e lui è giulio farinelli della dell'azienda al sughereto buongiorno a tutti adesso facciamo vedere anche il fiore del bulbophyllum profumatissimo ciao giulio benvenuti nella mia serra questo è un po il mio regno è una giungla non è una serra particolarmente ordinata però mi diverto con queste piantine miniature profumate niente tutto qua non è una serra grande come quelle di giancarlo però nel suo piccolo ci sono diverse cose spettacolari spettacolari grazie giulio ciao a tutti grazie